E rieccomi qui, buongiorno a tutti ragazzi e ragazze in un altro appuntamento, in questo momento non mi trovo nel mio studio ma sono a Gran Canaria quindi farò il video da questo setup ma spero non vi dispiace. Oggi voglio parlare di Bitcoin, voglio cercare di capire con voi se riusciamo effettivamente a bucare questo maledetto old time eye che ci continua a perseguire perché effettivamente siamo a 67.326 dollari, non manca poi molto. Se andiamo a vedere quello che abbiamo dietro di noi è praticamente il precedente old time eye, abbiamo fatto una specie di double top e adesso quello che vogliamo vedere è la continuazione necessaria con volumi, continuazione necessaria anche verso i 75.000 dollari, magari staccarci un pochettino. L'unica cosa che preoccupa un po' gli investitori è il fatto che non ci sia stata una vera correzione, non abbiamo avuto neanche un piccolo air low settimanale o qualcosa del genere che ha potuto diciamo un po' scaricare, resettare gli indicatori per ripartire alla massima potenza. Ma oggi andiamo a vedere un po' di indicatori nuovi, facciamo un po' il quadro della situazione anche per quello che sta facendo BlackRock e cerchiamo di capire un po' tutto se questo rally sarà sostenibile oppure arriverà una correzione dopo l'old time eye. Quindi cerchiamo di fare il quadro della situazione prima di partire però ragazzi vi ricordo sempre date un occhio ai link in descrizione perché sono tantissime, abbiamo le migliori offerte nel settore, abbiamo creato il gruppo Telegram che si chiama Missione Spazio che è gratuito e vi aiuta con airdrop, presale, tutto quello che volete, chi più ne ha più ne metta ed è gratis, lo trovate in descrizione tra cui anche tutti gli altri ref tra cui Bybit, Bitget e quant'altro. Quindi andate sotto a dare un occhio, iscrivetevi al canale perché vedo che tanti di voi guardano il video ma non si iscrivono al canale quindi siamo adesso in un momento importante dove dovete rimanere sul pezzo quindi iscrivetevi al canale con la campanellina e mettete un bel like, arriviamo almeno a 1000 like in questo video anche se siamo oltre oceano. Andiamo a vedere un po', allora Bitcoin 67.383 come vedete qui sul time frame settimanale al momento ci stiamo spingendo, l'ultimo euro settimanale si trova a 38.674 dollari il che è ben distante da dove ci troviamo ora. Sul mensile ad esempio qua abbiamo un pattern che praticamente ci porta a rialzo, pensate che l'ultimo euro mensile lo abbiamo avuto a 24.190 dollari quindi mi si era incantata la videocamera, l'ultimo euro abbiamo avuto a 24.000, circa 25.000 dollari quindi molto lontano anche questo. E da lì abbiamo fatto un bel balzo, guardate un po', abbiamo fatto un balzo del, fatemi vedere bene di preciso, fatemi togliere anche il magnete altrimenti mi prende tutti i livelli, di circa il 176% che non è assolutamente poco. Ok quindi al momento non c'è stata ancora una correzione da quel punto sul livello mensile e probabilmente non avremo una correzione subito, l'avremo dopo che abbiamo bucato l'ultima e mai, dopo che abbiamo bucato l'ultima e mai probabilmente alcune altcoins inizieranno a salire ulteriormente perché Bitcoin probabilmente andrà in lateralizzazione e quindi avremo una Bitcoin Dominance come vediamo qui che inizierà a scendere anche sul mensile. Quello che io sto osservando sul mensile per quanto riguarda Bitcoin Dominance è questo livello che è l'ultimo euro settimanale della Dominance, la 12 e la 26 che al momento sono crociate a rialzo, quando perderemo praticamente quella 12 e la 26 lì inizierà realmente la Dominance a scendere. Potrebbe anche non succedere, attenzione perché abbiamo visto bene che durante la correzione dei Bitcoin sono scese anche le altcoins e se Bitcoin decide di capitolare a questo punto potremmo anche schippare direttamente e saltare un ulteriore rialzo delle altcoins. Non è detto che succeda, tanto perché tante altcoins, soprattutto di quelle nuove, di nuova gamma, sono già salite tantissimo, sono già salite in percentuali assurde, quindi non è detto che per forza quelle vecchie debbano seguire il corso di quelle che hanno fatto quelle nuove. Perché l'altseason potrebbe concludersi con quelle nuove che sono 6, TIA, tutte queste qua che hanno già visto percentuali mostruose, le meme coin che hanno già visto percentuali mostruose, i token AI che hanno già visto percentuali mostruose e non è detto che Alacardano, Polkadot eccetera devono seguire dietro di loro, quelle dei cicli precedenti. Quindi teniamo anche da conto queste cose perché molti di voi si attaccano, si sposano le altcoins ma poi si trovano con un pugno di mosche in mano. Andiamo avanti perché qua come possiamo vedere abbiamo loser e winner, qui vediamo appunto un mercato abbastanza misto ma in verde oggi con tanti questi nomi, soprattutto ancora meme e AI e anche qualche fork che sta salendo. Abbiamo Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, quindi è la giornata dei fork questa anche che sta vedendo un po' di continuazione ma ci torniamo dopo. Quindi BlackRock che cosa sta facendo? BlackRock ha presentato una nuova richiesta alla SEC per l'acquisto di ulteriori ETF di Bitcoin per il suo Global Allocation Fund. E qual è l'obiettivo praticamente? L'obiettivo è quello di utilizzare gli ETF di Bitcoin per migliorare le prestazioni del fondo e quindi questo andrà a portare altri capitali, se uno va a investire sul Malox che è questo qui che è in giro dal 1989 si troverà ad investire in Bitcoin senza effettivamente sapere che sta investendo in Bitcoin, una cosa del genere. Quindi questo porterà ancora più volumi, ancora più interesse nel settore. La SEC ovviamente deve ancora provare la richiesta per l'acquisto di questi ETF aggiuntivi ma comunque nel frattempo il prezzo di Bitcoin continua a salire. Qua vediamo bene appunto che BlackRock è uno dei maggiori gestori di asset al mondo, sta pianificando di acquistare questo ETF spot per il suo Global Allocation Fund, Malox. Ok? Secondo l'aggiornamento del 7 marzo. Quindi vedremo sicuramente qualcosa che aiuterà l'adozione. Attenzione che però la SEC ha rinviato la sua decisione sulla possibilità di aprire il trading di opzioni sugli ETF Bitcoin a termine, il che potrebbe aprire le porte anche questo a un maggiore capitale istituzionale nel settore delle criptovalute. L'agenzia ha esteso il suo tempo di risposta al CBOE Exchange e alla Miami International Security Exchange. Ok? Andiamo avanti perché qui abbiamo anche la scadenza delle opzioni. Questo può portare un po' di volatilità, sappiamo che lo porta. Oggi scadranno 29.000 opzioni di Bitcoin con un put to call ratio 0.86, un punto dolente, quindi Max Payne a 60.000 e un valore nozionale di 2 miliardi di dollari. E anche su Ethereum abbiamo 270.000 opzioni di Ethereum che scadranno con un put to call ratio di 0.55. Quindi sappiamo che quando scadono le option anche lì c'è sempre della volatilità. Lo stato del mercato è anche questo e noi ne parliamo anche nell'altro canale che si chiama Marco Gallazzi, che è il mio canale dove tratto solamente finanza in generale. Dei mercati come stanno salendo tantissimo, abbiamo il Nikkei giapponese che è scambiato appena al di sotto il suo massimo storico, il DAX tedesco che è un nuovo massimo storico, l'S&P 5 Fund, un nuovo massimo storico, il Nasdaq, il QQQ, un nuovo massimo storico, Nvidia ancora un altro nuovo massimo storico e tutti i semiconductor, Bitcoin quasi un nuovo massimo storico. Quindi il mercato è rialzista e tutto quanto. Però per molti questo potrebbe essere il momento di tornare tutto cash, potrebbe essere il momento di sta scoppiando una bolla, stiamo vicini a una correzione generale dei mercati. Non si sa ancora, non ci sono tracce di questo anche perché la Fed probabilmente andrà a tagliare i tassi a metà anno. Insomma ci sono ancora tante cose a livello macroeconomico da osservare. Abbiamo tante cose da osservare, qui alcuni credono che andiamo a 150.000 dollari. Altri con questi 7.4 miliardi di dollari di flussi netti nelle prime sette settimane di negoziazione degli ETF che hanno fatto scoppiare tutto. Abbiamo il rally sull'AI, semiconductor, altri settori. A parte le utilities e le real estate e tutto il resto sta salendo. Abbiamo appunto l'Halving tra poco, l'aggiornamento Denkun di Ethereum, possibile ETF di Ethereum. Insomma ci sono un sacco di cose che abbiamo sotto i nostri occhi e queste cose potrebbero effettivamente far continuare il mercato rialzista. Però però però, e qui arriva la mano nera perché abbiamo, eccolo qui, abbiamo anche una metrica importante. Questa metrica è i dati on-chain della MVRV che ci mostrano che ci potrebbe essere una correzione immediata. Praticamente, che cosa dice questo indicatore? Storicamente questo indicatore ha portato correzioni nel prezzo di Bitcoin. Attualmente il prezzo di Bitcoin è del 40% superiore alla base di costo dei detentori a breve termine. Questa metrica, chiamata Market Value Realized MVRV Ratio, confronto la capitalizzazione di mercato di Bitcoin con la capitalizzazione realizzata. La capitalizzazione realizzata tiene conto del prezzo al momento dell'ultima transazione sulla blockchain. In passato, quando il Bitcoin era del 40% superiore alla base di costo dei detentori a breve termine, si sono verificate correzioni devastanti di prezzo e questo è l'indicatore MVRV. Quindi, quando questo indicatore inizia ad arrivare a questi livelli, attenzione perché potremmo effettivamente testimoniare una correzione. Ora, questi indicatori vanno sempre presi molto moltissimo con le pinze. Noi continueremo ad osservarlo, ad ogni modo, chi lo sa, se arriverà una correzione o meno. Io personalmente sto facendo scaling out, nel senso che ho un altro ordine di exit di Bitcoin su Binance, vi faccio vedere. Però pensate che vi dico boiate. Ho qua, sto aprendo proprio l'applicazione in questo momento. Se vado su Bitcoin e vado su Bitcoin USDC, vedete qua, ho due limit order. Uno per quanto riguarda una vendita a 72.000 dollari, l'altro per quanto riguarda una vendita a 76.000 dollari. Ok, li ho messi qui in USDC e sto aspettando, sto aspettando che colpiamo quei livelli per scalare le mie posizioni. Perché qualcuno dice, se stai scalando fuori dai 48.000. Esatto, sto facendo questo piano piano, vado a scalare piccole posizioni. Un po' come fanno quelli tipo che continuano ad entrare a piccole posizioni, gli istituzionali. Nulla a che vedere con gli istituzionali, però sto scalando all'infuori queste posizioni. Scalandole mi darà la possibilità, nel momento in cui effettivamente ci sarà una correzione, io ho sempre comunque il 30% che corre all'infinito, questo non lo venderò mai. Però il resto che ho acquistato a livelli molto più bassi, in zone 20.000, 25.000, quelle zone lì, le ho vendo in profit, scusatemi, ma lo vendo in profit. E quindi mi servirà uno per spostarmi su altre opportunità, tipo se trovo delle pressioni interessanti, se trovo, devo fare dei movimenti per gli airdrop, se devo spostarmi su qualche coin, mi serve liquidità. E poi per ricomprare Bitcoin a prezzi più bassi, quindi questo più o meno è il piano che io sto seguendo da sempre. Bene ragazzi, questo era tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, io vi ricordo ancora, iscrivetevi al canale, perché io vi guardo se non lo fate. Attivate la campanella, mettete un bel like, date un occhio ai link in descrizione, che vi ripeto sono i migliori del settore. Missione Spazio, gruppo Telegram, gratis, accesso per chiunque, basta che non fate spam, se no venite bannati. E per il resto noi ci vediamo all'appuntamento di mannana. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.